Miriam Leone Miriam Leone icona di stile, il suo colore di capelli fa tendenza . Dopo essere diventata la nuova testimonial del brand Gucci, Miriam Leone continua il suo percorso nella moda e nello stile lanciando una nuova tendenza per l'air stile della stagione autunnale. In occasione dell'evento del noto brand fiorentino durante la Milano Fashion Week, l'attrice si è mostrata al pubblico in tutto il suo splendore, sfoggiando un colore di capelli affascinante e trendy. Così l'air stile della nuova stagione sarà il rosso copper, un colore esplosivo, ma al tempo stesso molto elegante, di base rossa, ma con tonalità arancionate. La Leone si è fatta conoscere dal grande pubblico non solo per la sua bellezza, ma anche per il colore di capelli particolare, che la rende unica nel panorama artistico italiano. Nuova stagione, nuovo air stile. In origine era castana, poi ha deciso di farsi conoscere da tutta Italia con i suoi capelli rossi che oscillano su diverse tonalità. A seconda delle stagioni, Miriam Leone è diventata nel corso degli anni sempre di più una vera icona di stile e ultimamente ha confermato la sua posizione consolidando le collaborazioni con noti brand di moda. La sua presenza alla Milano Fashion Week non è passata inosservata, così come i suoi outfit a volte fuori dagli stemi, ma decisamente ricchi di stile. L'ex Miss Italia ha abbandonato così le vesti di regina di bellezza per diventare una trendsetter. In particolare durante l'evento di Gucci a Milano dei giorni scorsi, la Leone ha sfoggiato quello che è diventato in poco tempo il nuovo colore di capelli della stagione, il rosso copper con punte di ginger. Il risultato finale è un rosso arancionato esplosivo, che dona luminosità al viso, ma senza essere eccessivo, questo haio stile è perfetto per le donne di tutte le età, ma è necessario avere le giuste caratteristiche a livello di pelle. In particolare chi ha un incarnato chiaro con un sottotono rosato, può sentirsi libera di scegliere questo colore per la nuova stagione, prima però è sempre meglio farsi consigliare da un parrucchiere esperto, in modo da riprodurre la giusta tonalità e sentirsi come una vera diva. I capelli di Miriam Leone fanno tendenza. Il suo colore non è l'unico a fare tendenza nel mondo della moda e del beauty, Miriam Leone non passa inosservata anche per le sue capigliature disinvolte. Il suo stile glam e retro ha fatto impazzire il pubblico di tutta Italia, non solo per le tonalità rosse e ramate, ma anche per lo stile naturale e semplice che la caratterizza. Non si vedrà mai l'attrice sfoggiare chiome leonine super elaborate, come fanno numerose star dello spettacolo, perché lei da sempre predilige la naturalezza, che è diventata il suo biglietto da visita. L'attrice quindi si mostra in pubblico con i capelli sciolti e leggermente mossi, sia con riga centrale, sia con riga asimmetrica. Spesso però durante gli shot in gol gli eventi si è mostrata anche con i capelli raccolti, con ciuffi laterale che cadevano. Miriam riesce ad affascinare tutti anche su social, mostrandosi alcune volte anche la chioma spettinata, cosa che poche star dello spettacolo farebbero, ma daltronde la sua bellezza naturale non teme nemmeno gli scatti senza trucco. Grazie a tutti.